Buonasera ragazzi, buonasera. Intanto mi stavo facendo due risate nella live di questi pagliacci, perché sono pagliacci. Sono pagliacci che non sanno affrontare le persone, eh? Guardate i pagliacci chi sono. Capitanata da colui che ha dato a noi gente del nord, dei fascisti leghisti, eh? I signori nati per vincere. A sua volta c'è Lecca Lecca Ambare Palermo, Lecca Lecca. E poi ci sono altri tre personaggi, di cui uno che ha la maschera, che viene da un film morto. Togiti la maschera, pagliaccio. Fatti vedere in faccia, pagliaccio. Detto questo, volevo fare i complimenti a Durgio88, sei il mio idolo, mi hai fatto pisciare dalle risate. Sei un grandissimo, sei un grandissimo. No, volevo far rivedere questa gente qua che parlano tanto loro di portare rispetto, ma quelli che non riportano rispetto sono i primi, sono loro. Sì, pagliacci. Un saluto ragazzi. Durghi, sei un grande. Durgì.